vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata siamo stati messi in contatto col presidente del consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie e se queste stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili io non posso che esserne contento c'è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione soprattutto quella più giovane all'utilizzo della mascherina e io mi sto sforzando di trovare un modo di essere più convincente possibile probabilmente non esiste modo quello che posso dire che ragazzi ci troviamo in una situazione molto 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 delicata e che l'italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown e che in qualche modo il destino e il futuro dell'italia è nella nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi e con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi quindi mi raccomando ragazzi utilizzate la mascherina